Si terrà il prossimo 12 dicembre alle ore 18 l'inaugurazione del centro polivalente di Olevano sur Tusciano. A spiegare tutti i dettagli dell'iniziativa l'assessore alle politiche giovanili Davide Zecca. Fortunatamente e dopo tante attesa mercoledì inauguriamo questo nuovo centro polivalente. Mi preme sottolineare che quel centro polivalente situato nella frazione Salitto era del tutto fatiscente quindi l'abbiamo riammodernata, abbiamo fatto un grande investimento nel riammodernamento quindi l'abbiamo messa a nuovo, l'abbiamo diviso in due con un'aula multimediale dove all'interno troveranno computer sarà uno spazio co-working per la progettazione dei giovani e un'aula formazione con proiettore appunto per la formazione. Stiamo anche allestendo, non credo che ce la faremo per il mercoledì ma per il prossimo anno un'area relax per i ragazzi quindi in un'area ludica. Finalmente siamo in assi di partenza dopo tante battaglie. Mercoledì partiamo, abbiamo avuto un'ottima iscrizione, partiremo con il laboratorio 1 gestione del terreno e il marketing sarebbe il laboratorio del progetto giovane sul Tusciano, poi ci sarà il marketing territoriale con Caccura Diamanti Events poi avremo il laboratorio 2 dove ci sarà il marchio per Olevano gestito dall'associazione giovanile capofila insieme per Olevano poi ci sarà un altro laboratorio che ancora non sappiamo che è il partner, proprio ieri abbiamo avuto la commissione per la selezione del nuovo partner poi ci abbiamo Gustando Olevano a cura della Prologo, il club dell'amicizia invece gestirà tradizioni e innovazione poi avremo il laboratorio finale gestito da Confartigianato. Una grande soddisfazione per avere questo spazio interamente finanziato dalla linea Benessere Giovani sul Tusciano. Ringrazio ovviamente i partner ringrazio i partner che hanno creduto in questo progetto, in primis l'associazione capofila insieme per Olevano con il nuovo presidente Michele Verderame, il direttivo formato dall'ingegnere Savero De Caro che ha curato tutta la parte tecnica del progetto, c'è il nuovo coordinatore del progetto che è Angelo Zoppi le ragazze Maria Luisa, Valentina, Lucia e Anna. Poi abbiamo l'associazione Prologo di Olevano sul Tusciano presieduta dal presidente Pietro Daniello che ringrazio. Abbiamo il club dell'amicizia presieduto da Imma Murino il nuovo partner, come dicevo prima, in fase di selezione, Confartigianato col presidente Franco Risi ma mi preme ringraziare anche la presentissima Irene Fusco che sta curando tutta la parte del terzo laboratorio. Infine un ringraziamento più degli altri ma non peraltro perché ci ha curato la progettazione ci sta curando tutta la fase iniziale di promozione del progetto che è il Europe Life della grande rappresentante Domenico Cozzo e dal progettista Francesco Piemonte. Mi preme ringraziare perché hanno dato tanto anche nei loro piccoli nuovi lavoratori che stanno in forza al comune con il progetto regionale degli APU e dal loro coordinatore che è il ragioniere Damiano Cozzo e dal RUP che è il dottore Elmenangildo De Stefano. La seconda è stata una data storica per la nostra comunità, per Olevano quindi il mio appello è soprattutto riferito ai giovani. Io vi consiglio di partecipare, di essere presenti soprattutto in quella sera dove potete insieme a noi che stiamo lavorando per la parte giovanile della nostra comunità iniziare un percorso plurale e di condivisione. Vi aspetto mercoledì 12 per l'inaugurazione del centro politico di Giovanni Barra sarà presente con noi Enzo Maraio, il consigliere regionale sarà presente con noi l'ingegnere Michele Senese, presidente della provincia di Salerno interverrà il presidente Michele Verderame, il vice sindaco Carmine Calore e il dottor Michele Volzone, sindaco di Olevano Sottusciano.